La simpatia e la bravura di Mimmo Reali da noi a Cantiamo Napoli Buonasera, buonasera a tutti, tutti coloro che ci stanno guardando è un poco, come si dice, sono ritornato di nuovo Sei ritornato per il nostro piacere, stavamo proprio chiacchierando di questa bella struttura che è Villa Mirabella, che salutiamo i proprietari Un bacio forte, mi piace molto, io di solito siamo state altre parti però qua è la prima volta che vengo e veramente mi sono trovato bene Poi lo spazio è ottimo e poi, come si dice, dove ci sta la buona musica c'è anche il buon mangiare Esatto, bravo Invitiamo un poco tutti a venire a mangiare anche qui a Villa Mirabella Bravo Mimmo, bravo Allora Mimmo, cosa facciamo ascoltare al nostro pubblico? Allora facciamo ascoltare una canzone scritta dal maestro De Falco La canzone è sempre con il telefonino per tutte le ragazze di oggi iPhone, smartphone, telefonini vari Giusto, giusto, che poi prendono le cotte e per loro sono i primi amori queste cose qua È molto bello, molto bello, però mi raccomando non devono credere molto nei primi amori perché, come si dice, le cotte giovanili passano sempre Sì, sì, sì Devono vedere un poco le cose Oltre Oltre, giusto, giusto E a chi la vogliamo dedicare? Le dediciamo un po' a tutte le ragazzine che ci seguono su Facebook e mi seguono su Memoriali Cantante Mi raccomando, aggiungetemi in tanti che sono rimasti ultimi posti Gli ultimi posti, gli ultimi posti Ogni martedì su FM Music io e Daniele Marciano saremo in diretta dalle 22 e 30 alle mezzanotte Seguitemi in Memoriali e Daniele Marciano e non ci resta altro che salutare chi ci segue da casa Cantiamo Napoli Grazie a tutti Sempre col telefonino Grazie a tutti 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 Grazie a tutti